Sul salario mi propongo di aggiungere una riflessione che tocca il tema dei contratti. È una riflessione che parte da una premessa. Noi siamo per uno Stato autorevole. Uno Stato forte ed autorevole promuove la cittadinanza politica per le autonomie territoriali, sociali e funzionali. A partire dalle camere di commercio che rimangono le nostre istituzioni di riferimento. Uno Stato forte ed autorevole riconosce in chiave di sussidiarietà il ruolo dei corpi intermedi, il ruolo delle parti sociali. Perché come non abbiamo mai chiesto allo Stato di fare l'imprenditore al posto nostro, così ci convince poco che al posto nostro faccia sindacato. Chiediamo invece di permetterci di fare meglio il nostro lavoro rafforzando la contrattazione collettiva tra le parti sociali più rappresentative. Siamo stati tra i primi a firmare un raccordo sulla rappresentanza nel 2015 con i sindacati dei lavoratori. E quella che dobbiamo percorrere insieme è una strada che ha ancora tanti passi, ma un orizzonte chiaro. Dare valore vero al peso autentico della rappresentanza.